Ciao e benvenuto in questo nuovo video! Oggi scopriremo insieme le caratteristiche di una razza molto amata, ovvero la Rhodesian Ridgeback. Prima di iniziare però ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un bel like, in questo modo aiuterai il canale a crescere e te ne saremo davvero grati! Il Rhodesian Ridgeback è una razza molto particolare, questa ha avuto origine dai cane aborigeno e primitivo. Il suo nome ha un duplice significato, Rhodesian indica infatti il luogo di provenienza, ovvero la Rhodesia, nota oggi come Zimbabwe. Ridgeback fa invece riferimento alla crista presente sul dorso. Questo cane ha un'altezza media tra i 63 e 69 centimetri per l'esemplare maschio, per la femmina è compresa tra i 61 e i 66 centimetri. Il peso ideale è di 36 kg per il primo e di 32 kg per la seconda. Il Rhodesian Ridgeback è molto muscoloso e allo stesso tempo agile e veloce. È ben proporzionato, simmetrico ed atletico. La sua peculiarità è la cresta che è presente sul dorso. Questa è formata dai peli del suo manto che crescendo in direzione opposta rispetto a quella naturale creano una vera e propria cresta. Anche se può sembrare un aspetto superfluo, questo è un tratto identificativo del Rhodesian Ridgeback. Per quanto riguarda il suo impiego odierno, questo è ancora quello della caccia. Tuttavia è riuscito a guadagnarsi un posto tra le razze da compagnia e guardia ed ideali per le famiglie. Il Rhodesian Ridgeback è molto plasmabile, infatti con la giusta educazione gli si può insegnare veramente di tutto. Ama sentirsi gratificato ed è molto importante complimentarsi con lui. Inoltre una cosa da tenere in considerazione è che è l'ultima razza di Segugio capace di cacciare sia a naso sia a vista. Se per altri cani vivere in solitudine non rappresenta un problema, la storia è ben diversa per il Rhodesian Ridgeback. Questo non può assolutamente stare da solo in quanto finisce per soffrire veramente moltissimo. infatti per lui i suoi compagni umani sono fondamentali e necessita di un contatto costante e presente. Riesce ad adattarsi anche alla vita di appartamento se questo gli consente di stare a contatto con il padrone e la famiglia. Il suo carattere è intelligente, importante, ma mai aggressivo o violento. Con gli estranei si pone in modo distaccato, una volta che avrà invece conquistato fiducia si mostrerà più affettuoso. Viene inoltre consigliato una addestramento nei primi mesi di vita, purché questo non sia mai violento o preveda delle punizioni aggressive. Nel video di oggi hai scoperto le caratteristiche e qualche curiosità su una razza storica intelligente ed omabile come quella del Rhodesian Ridgeback. Prima di scegliere il tuo amico a quattro zampe, vi invitiamo caldamente ad informarvi sulla storia e sulle esigenze di questa razza e di rivolgervi ad un addestratore che saprà sicuramente consigliarvi al meglio. Se questo video ti è piaciuto ricordati di iscriverti al canale e commenta questo video scrivendo la prossima razza che vorresti vedere, saremo felici di pubblicare altri video sull'argomento. Per oggi è tutto, se hai imparato qualcosa di nuovo e ti è piaciuto questo video lascia un bel mi piace per supportare il canale, iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato per le prossime pubblicazioni. Da Mondocane è tutto, ci vediamo nel prossimo episodio, ciao!